Donare gli organi. Il comune di San Marzano sul Sarno è tra i 33 enti della provincia di Salerno che hanno condiviso il progetto Scelta in Comune, deliberando per i cittadini la possibilità di manifestare il proprio consenso o di niego alla donazione degli organi al momento del rinnovo della carta d'identità nella modalità elettronica. Sono già 100 i cittadini di San Marzano sul Sarno che hanno espresso il proprio consenso. La donazione degli organi. Io reputo un qualcosa di eccezionale. Io credo che sia il massimo che un essere umano possa fare alla fine, diciamo alla fine purtroppo della sua vita. Donare un qualcosa per far vivere un altro è il massimo che ognuno di noi può fare. Allora noi cerchiamo di far partire con questa iniziativa, questo senso di aiuto verso gli altri, questo nuovo modo di vedere e di concepire la vita anche quando finisce si vive altrove. Sensibilità e solidarietà allora, un messaggio che parte dalla Casa Comunale. Parte dalla Casa Comunale e devo dire che da quando è entrata in vigore questo nuovo documento di riconoscimento, la tessera elettronica, abbiamo avuto già un ottimo riscontro di adesioni e questo la dice tutta su quello che può essere la sensibilità di ognuno di noi. Vogliamo far sapere alla nostra popolazione che è possibile ed è più facile donare nel momento in cui si va a richiedere la carta di identità presso il nostro comune, sensibilizzare quindi il territorio e offrire anche dei chiarimenti perché molto spesso le persone non sanno quando si fa una donazione, in che modo viene fatta una donazione, chiarire il concetto di morte cerebrale, come dice Papa Francesco, donare è un atto di carità. Quando parliamo di trapianti parliamo di prestazione, di altissima specializzazione e chiaramente parlando di altissima specializzazione non possiamo avere una rete diffusa di questa tipologia di struttura. Napoli e la stessa Salerno per alcuni organi sono ben attrezzate. Aspettiamo il completamente di tutte le attività di programmazione regionale e vediamo cosa succede, ma sicuramente abbiamo degli importanti segnali in questa direzione.